Noi siamo Ozun Wes e per raccontarvi chi siamo, cosa facciamo e il perché di questo nome siamo venuti in un bosco. E non a caso, un po' perché ci piacciono i boschi in generale ma non è questa la ragione. Ozun traspirazione da Oshun, che è il nome di una foresta sacra africana e ci piace l'idea di avere il nome di una foresta perché le foreste sono per loro natura dei sistemi. Sono dei sistemi e le foreste vivono in quanto tali, esiste la foresta, esiste il bosco, ma sono fatti da altri elementi che a loro volta sono sistemi, che sono gli alberi. E quindi la foresta è un sistema di sistemi e noi vediamo anche la società, vediamo il mondo come un sistema di sistemi e noi ci focalizziamo sulle interconnessioni e su come un elemento condiziona un altro. Per questa ragione ci siamo chiamati Ozun. Però noi non ci occupiamo di qualsiasi tipo di sistema, noi ci occupiamo di una cosa specifica, ci occupiamo di lavoro, ci occupiamo di creare opportunità professionali, ci occupiamo di società. E da questo US, che sta per Work, Employment and Society, che sono proprio i nostri punti cardine. Quindi Ozun, US. Noi ci occupiamo di Work, Employment and Society con una metodologia sistemica, con un approccio sistemico.